Amici sportivi, appassionati di calcio, buonasera da Andrea Liotta, nei microfoni di Sportme, pronti per raccontarvi il big match della quinta giornata. Si affrontano l'Italia e la Georgia. Tutto pronto, partiti? C'è anche Ferraù in campo. Tanto vi scuso, la giocacentrale trova. O'Animal, traversa! La palla rimbalza, non è gol. Rugisce. Picciolo fischia, tutto pronto. Neto passa davanti, ha trovato, che prova a giro! E per poco non trova l'angolo. Ripartenza con Cannavò, che accelera, poi lavora di solo all'indietro per trovato. Messa, è comunque nella formazione di Calabro. Occhio a comanda da fuori e trova il Lattapina. Ravvicinato, indovinate chi? Oh, Animal! Cavallaro che schiaffeggia la sfera, comandè di testa. Lavorisce trovato, che avanza, lavora di sola. Occhio che prova! Traversa! Stava per fare un gol magnifico. Ancora trovato, ancora sinistro! Eviazione in falo laterale, mamma mia che giocatore! Cerca e trova Cassisi, che si libera molto bene l'avversario, poi appoggia dietro! Cannavò, grande risposta da parte di Mazzeo! Occhio a Ferraù, che rientra sul mancino! Bucca Sissi, sul primo palo! Pareggia i conti! Ha segnato a Cristian Ferraù, 1-1! Per la nazionale, ancora Ferraù, prova da fuori! Sissi, stavolta si oppone! Cerca e trova, Ferraù controllo, tiro! E sfiora la traversa! Ancora l'Italia! Ancora c'è Metto! Sta facendo praticamente l'attaccante, l'esterno di destra e di sinistra, occhio a Scivolone che prova col mancino! Caccio, centralmente, per Viscuso, allarga ancora per Cassisi, in area di rigore, salta il partiere! E trova il rimpallo! Clamoroso da parte di Scivolone, se non va derrato! Pronto, occhio alla rincorsa, ma Scivolone! Deviazione da parte di Sissi! Tanto Scivolone! Lo va a convergere, c'è la deviazione, il pallone rimane lì, pericoloso! E poi trova il guizzo, proprio Scivolone, e firma il vantaggio dell'Italia! Italia, 2, Georgia, 1! Ferraù dentro, attenzione, contatto! C'è un po' di check, come direbbe Marianella! Mento, fuori per Ferraù, che prova! E trova! Un gol, pazzesco! Segna, Christian Ferraù, un bolide! Tacco ai rusi, pallone che arriva dalle parti di Gordavò! Un bolide! Un brivido per Mazzeo, che gli porta via il pallone, riesce a servire trovato, e resiste la carica sul primo palo di aviazione, rimessa laterale! Tutto pronto, un corsa breve, è un passaggio, uno schema, bancaccio! Di tacco, Greco per poco, non segna, con un tapin meraviglioso! Ripartenza contro Vado, che prova a palleggiare, ad aspettare il momento giusto e l'appoggio giusto, lo trova in Amendola ancora, dall'altra parte per Greco, lascia scorrere, scusa in mezzo! Cannavano, ci arriva Greco! Alto, c'è stata la deviazione da parte di Mazzeo! Riesce in qualche modo a servire scivolone, poi ci propone, avanza, resiste, una carica brava! Grande deviazione da parte di Sissi! Mento, all'indietro, Esposito! In girata! Occhio a questo calcio di munizione trovato in mezzo! Deviazione da parte di Comandetta Tè! Avrebbe bisogno, ovviamente, di un gol per riaprire le speranze! Palo! Un bolide di Cannavò! Ruggeri! Salta secco l'avversario, occhio che rientra! Ancora di suola, dietro! Metto, conclusione, deviata! Esposito, Esposito! Sulla linea! Comandè salva! Arriva incredibilmente adesso il triplice fischio di Gusurà del direttore di gara! La capolista secca per la prima volta! Perde la sua prima gara! Ci pensa l'Italia di Cavallaro! Finisce 3 a 1 dai microfoni di Sportme, da Andrea Diolta amici! E tutto! Alla prossima! Ciao picciolo! Ciao! Ci vediamo! Ciao picciolo!